Cibus Connecting Italy torna in scena a Parma dal 29 al 30 marzo. L'ambizioso progetto che il Salone Internazionale dell'Alimentazione porta avanti è quello di coinvolgere esigenze ed esperienze di produzione, industria e distribuzione attorno a un unico tavolo. Un tavolo che lavori alla delineazione di nuovi scenari per il mondo del food, così importante anche per la nostra provincia. Scenari che vedono in primis una maggiore valorizzazione del legame territoriale e una continua riscoperta di produzioni, tradizioni e cultura del vivere e mangiare all'italiana. Presenti naturalmente anche grandi nomi cremonesi, la Martino Rossi SPA, la Sperlari, la Top Single Service, la Valcor, Gennaro Auricchio SPA, ma anche Casalasco SPA e Pumì, come coespositore, Gallette di Gallette Aurelio, Donine Alimentari e CSM Ingredients. 20.000 i visitatori attesi in fiera da 90 diversi paesi esteri, tra cui 1.300 top buyer in arrivo a Parma.